Ci sono stati uomini semplici, come Raffaele Granata, che hanno deciso di affrontare il pericolo, pagando ingiustamente con la loro stessa vita. Nel loro piccolo lo hanno fatto senza paura, per orgoglio, contro la sovraffazione, per poter fare liberamente l'imprenditore, con onore. L'onore vero, non quello falso e fetido delle consorterie criminali e delle mafie. Raffaele Granata cade proprio qui, colpito a morte da Giovanni Letizia. Killer mandato a sua volta dallo stragista Giuseppe Setola, l'uomo delle stragi del clan dei Casalesi. Sono passati 15 anni e oggi tutti ricordano Raffaele Granata qui, nel lido che era suo, lido di Varcaturo. Ci sono il prefetto di Caserta Castaldo, l'alto commissario Nicolò, il PM Alessandro Milita che condusse le indagini all'epoca, rappresentanti delle associazioni della società civile. Deve essere oggi ricordato il sacrificio di Granata e deve essere ricordato per stimolare tutti coloro che ancora a fronte di operazioni di polizia giudiziaria importanti, non denunciano, essere stimolati ad affrancarsi dalla criminalità e stare dalla parte dello Stato. Quindi oggi il grido che deve venire fuori da questo incontro, appunto perché Granata l'ha fatto, è denunciare.